Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi chiudiamo la Serie A. C'è l'ultimo turno, le ultime partite, dobbiamo cercare di capire chi si salva e chi no. Poi inizierà un periodo in cui ci avvaleremo di campionati che potrebbero sembrare un pochino strani. Ma se mi segui su Telegram hai già visto che abbiamo già cominciato a mandare in cassa campionato cinese, campionato norvegese, islandese, eccetera, eccetera. Quindi è un periodo in cui sfrutteremo i cosiddetti campionati estivi. Sul blog trovi un articolo che ne parla in maniera approfondita quali sono i campionati estivi che utilizziamo più di frequente. Quindi sicuramente non restiamo senza calcio. Inoltre quest'anno ci stanno gli europei e la Coppa America. Su questo ho scritto un articolo perché potrai vedere come durante il giorno abbiamo gli europei, la notte c'è la Coppa America e entrambe si concludono il 14 luglio. Quindi fino al 14 luglio praticamente ci stanno partite di tutti i tipi, tutti i giorni. Quindi sarà un periodo veramente molto molto intenso. Come sempre, insieme a me i libracci di Metodo Stats for Bets e Tipster Robot, andiamo a prendere sul superfoglio l'ultima giornata di Serie A. Con i video di YouTube, devo essere onesto, devo ancora capire come organizzarmi, se fare video sugli altri campionati che però magari giocano in orari diversi perché giocano la mattina, quindi non so se riesco a fare video per campionati che giocano di mattina, è un po' più complicata la faccenda. Comunque vedremo come mantenere attivo anche il canale YouTube. La prima partita che ci resta da analizzare, in realtà sono tutte quelle della domenica, è Atalanta-Torino. L'Atalanta ovviamente viene da questa impresa incredibile fatta contro il Leverkusen, quindi vediamo effettivamente un ribaltamento di quote. Il Toro che cercherà a tutti i costi di arrivare in Europa, all'Atalanta che la Champions ce l'assicura, ha vinto la Coppa. Dobbiamo concedere qualcosa all'Atalanta, c'è un attimo di pausa, non penso che ripartano a mille anche contro il Torino, però l'Atalanta è veramente sorprendente, quindi non si può dire che sicuramente vincerà il Torino. Si possono scegliere esiti più cautelati, il gol in trasferta, anche se il Torino non segna tantissimo, oppure la X2. Sarei sorpreso di vedere ancora una volta un'Atalanta a mille, con un Toro che invece a mille ha le motivazioni, quindi sarei veramente sorpreso di vedere il Torino arrendevole, però questa Atalanta ci ha dimostrato che invece è capace di tutto, quindi tutto potrebbe succedere. Il Napoli contro il Lecce. Allora, il Napoli per sperare di scavalcare qui la situazione in classifica, deve vincere a tutti i costi. Il Lecce è salvo, quindi teoricamente dovrebbe essere una partita facile, ma, e questa è veramente un'assurdità, nonostante la quota sia così bassa, 1,42, le statistiche sono così basse, 53, l'intelligenza artificiale non si fida più del Napoli. Cioè, io vi ho sempre detto, no? Come lavorano le intelligenze artificiali? Lavorano anche imparando dagli errori precedenti. Quindi, probabilmente, in un altro momento della stagione, questa a quota 1,42, ce la suggeriva come o ottimo 1 o probabile 1. Vista la stagione del Napoli, visto lo scempio che abbiamo e che hanno dovuto vedere i tifosi napoletani, addirittura si cautela col possibile 1. Io, personalmente, penso che se il Napoli non vince neanche questa partita, ragazzi, cioè, non lo so veramente dove andare a mettere le mani. Però, teniamo conto che l'intelligenza artificiale non si fida del Napoli. Quindi, vedremo. Empoli-Roma, cruciale per la salvezza e addirittura l'Empoli dato sotto quota 2. Cioè, è tanta come differenza. Contano sicuramente le motivazioni, perché la Roma, con la vittoria super importante col Genoa, si è assicurata il fatto di arrivare sesta. Quindi, perché credo che se la Roma perde e la Lazio vince, comunque, in virtù degli scontri diretti, viene favorita la Roma. Quindi, la Roma, diciamo, che potrebbe anche perdere. L'Empoli deve assolutamente vincere. In questo caso, le motivazioni fanno molto più del campo di quello che è stata la stagione. Quindi, io ho un rischietto sulla vittoria dell'Empoli. Considerando che le statistiche sono comunque molto equilibrate, lo farei. Anche perché comunque all'Empoli, possiamo dire che gliel'hanno rubata a Udine, non perché non ci fosse il rigore. Il rigore c'era. Però, certo, arrivare a tirare un rigore al centocinquesimo minuto, c'è tanta roba. Quindi, credo che qualcosina sull'Empoli vada sinceramente messa. Ma, fermo restando che, se quest'altra partita qui non va come l'Empoli spera, potrebbe essere comunque inutile. Perché, non lo so, se il Frosinone vince e l'Empoli non vince, va comunque in B l'Empoli. Quindi l'Empoli deve comunque fare il suo. Perciò, qua, l'aspetto è veramente particolare. Perché se pareggiassero e l'Empoli vince, retrocede l'Udinese. Se Frosinone, Udinese vince. Non ho visto tutte le combinazioni, ma c'è il rischio spareggio. C'è, perché per esempio, se l'Udinese perde, l'Empoli pareggia, vanno a pari punti. Ci stanno varie configurazioni. Non le ho studiate tutte, onestamente. Però penso, guardando i dati, la quota del... Sono altissime, ovviamente. E sono anche in rialzo. E sono anche molto equilibrate. Però penso che il Frosinone si sia creato in casa la chance che si sta giocando di salvarsi. Otto vittorie, di cui sette casalinghe. E l'ultima pittoria, ed è l'unica in trasferta, l'ha fatta col Monza. Sarebbe un peccato sprecare la stagione in questo momento. Con la 1x si tutela quasi totalmente. Perché comunque tiene dietro l'Udinese. E indipendentemente da quello che fa l'Empoli, avrà una squadra dietro. Perché se vince l'Empoli, l'Udinese retrocede. Se l'Empoli dovesse perdere, retrocede l'Empoli e si salvano Frosinone e Udinese. Se la Roma fosse in vantaggio, che Frosinone e Udinese si accontentino entrambi del pari, non sarebbe così strano. Quindi sarà una partita a livello emotivo molto molto complicata. La sposterei sulla 1x e in base a quello che succede sul campo dell'Empoli interverrebbero secondo me i cartellini. Perché se l'Empoli va subito in vantaggio, la sblocca subito e qui già sanno che la partita è alla morte, vedremo fioccare i cartellini. Se paradossalmente, non so, per qualche motivo la Roma fa due gol e si capisce già che l'Empoli è condannato, è molto più probabile che la partita si acquieti e non avremo grossi scossoni. Match abbastanza inutile questo, perché il Verona ha compiuto il suo ennesimo miracolo. Veramente sembrava spacciata quest'anno il Verona, anche in virtù di tutte le vendite che ha avuto. Invece ha compiuto il miracolo e ha vinto. Questa può essere veramente tutto, ragazzi. La quota sarebbe anche interessante per giocarla, addirittura da singola, ma l'allibramento è strano. Potrebbe finire 0-0, potrebbe finire in goleata dell'Inter, potrebbe, non credo, vincere il Verona. Non lo so, questa è illegibile, perché non ha motivazioni, però la quota è alta. Cioè, se era senza motivazioni ed era totalmente facile che l'Inter vincesse, ce la davano 1,20 e allora 1 non la utilizzava. Ma 1,53, secondo me, la quota è alta, diventa invitante, e quindi ti viene da mettere l'esito 2 e invece poi magari finisce in un altro modo. Quindi, non lo so, secondo me ci metterei un over 1,5 proprio perché così, buttato lì, ma probabilmente non la utilizzerei. Finiamo con Lazio Sassuolo, in cui invece penso che il Sassuolo, che è retrocesso, non opporrà resistenza, anche se alla Lazio, se non vado errato, la vittoria potrebbe essere inutile per qualificarsi al posto della Roma, cioè per superare la Roma. Anche la Lazio, qui con l'Inter, aveva avuto l'occasione proprio anche di superare in classifica la Roma, perché comunque la trasferta di Empoli sarà complicata. però penso che il Sassuolo, dopo le ultime batoste, non abbia proprio energia, oltre che campo, per fare qualcosa. Quindi, secondo me, ecco, questa, inutile per inutile, diversa rispetto all'Inter, a questa quota qui, credo che possa vincere la Lazio. Per questo video è tutto e per la Serie A è tutto. Come sempre, se ti è piaciuto, lascia un like, farò sicuramente altri video, magari meno rispetto a questi della frequenza della Serie A, anche perché abbiamo ancora da dover analizzare due finali, Champions e Conference, poi cominciano gli europei, quindi, insomma, video sicuramente non mancheranno. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.